ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video molto molto particolare perché è un video in collaborazione con il gruppo di telegram quindi dove fa parte fabiana irene emi e altre ragazze sbagliazzurra partecipa e forse ce ne dovrebbe essere una nuova ora non me le ricordo tutti ma vi chiedo scusa perché non me le ricordo allora di che cosa si tratta vi leggo subito il titolo perché in questo momento il mio cervello funziona una minima parte allora si tratta di una collaborazione con le make up per quanto riguarda telegram come vi ho detto ed è make up mascherina come la risolvo come la risolvo vi dico la mia allora io già sono uscita sono andata in vari posti e vi dico che non è tanto facile per quanto riguarda la mascherina e tutto io inizio facendo uno scrub e utilizzo questo qui di sephora che non è un granchè però mi aiuta tantissimo perché io ho sempre le labbra screpolate lo lascio aggire e poi lo tolgo ha un odore di miele fantastico e dopo metto il burro cacao perché io senza burro cacao non so stare anche se poi lo toglieremo allora iniziamo subito io mi prendo lo specchio perché sono cercata di mio allora vi chiedo scusa per i capelli adesso li alziamo perché ho fatto un colore nuovo e quindi si deve ancora sistemare e voilà e decarote si chiama no mio figlio mi ha detto mamma sei arancione come una carota allora come risolvo il problema per quanto riguarda la mascherina allora per prima cosa utilizzo scusate utilizzo un acqua micellare e la spruzzo tutto il viso proprio per ammorbidire la pelle e tutto perché sapete che ho una pelle abbastanza secca e poi utilizzo un contorno occhi quindi io sto finendo questo qui di dei provenzali perché per quanto riguarda la crema e il siero già li ho finiti perché ne ho utilizzati tantissimo e già li ho finiti io utilizzo i polpastrelli perché non i gomiti i polpastrelli perché lo lascio un pochettino agire così non non lo tolgo tutto in una volta poi per quanto riguarda il viso io sinceramente utilizzo delle creme una crema semplicissima ovviamente nutriente mi sento delle cose negli occhi utilizzo delle creme nutrienti e quindi per adesso sto utilizzando questi qua ho un sacco di campioncini e sinceramente mi secca averli vabbè c'ho qualcosa nell'occhio che l'abbiamo capito tutti allora vi stavo dicendo io sto utilizzando dei campioncini perché me ne hanno dato abbastanza e volevo provare tipo alcuni prodotti proprio della marca il Saint Laurent e quindi lo proveremo insieme e vediamo com'è questa questa crema allora ragazze fa ragazzi e ragazzi fa troppo ma troppo caldo per riuscire a stare fuori tranquillamente la devo aprire di più ecco io lo sapevo perché me ne esce pochissimo allora questa qui è una crema allora vediamo com'è questa crema questa crema è una crema idratante e luminosa quindi proviamo com'è se è buono oppure no allora io in questi giorni ragazzi sono in fissa con tiktok mi sono fissata proprio le risate così a manetta e mi ci vuole veramente ridere un pochettino se mi vedete giù non vi preoccupate è un periodo che passerà appena le cose andranno bene poi vi farò io mi manderò una foto e capirete adesso non mi sento di non parlare tutto anche per motivi di privacy e tutto sono delle cose che succedono normalmente quindi una persona si abbatte sapete per me la famiglia è il primo posto quindi se un familiare sta male o ha qualche problema io ne risento subito sono fatta così allora come abbiamo detto abbiamo messo una crema molto molto buona sinceramente molto molto idratante molto 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 allora sempre per quanto riguarda gli occhi io metterò questo qui di becca perché mi dà un po' di luminosità proprio qui nel contorno occhi io ho toccato ovviamente la crema e quindi non riesco ad aprire niente più allora ci riusciamo sì ed è questa io mi ci trovo bene con questa qui e perché mi dà anche un po' di luminosità e mi colora leggermente questa parte e sinceramente mi piace io l'unica cosa che farò è proprio farvi vedere come faccio io se devo andare da qualche parte io sono stata già da sephora mamma mia che tristezza sono stata da altri posti sempre però per quanto riguarda come si dice centri commerciali e cose no siamo stati al panto soccorso oddio vediamoci su perché è meglio no non è cosa non è cosa di truccarsi non è cosa perché con la mascherina veramente rischio di soffocare non mi piace per niente mi sento proprio soffocare poi il fatto di che le persone certe volte si fermano quindi tu rimani dietro le persone aspettando che quella persona si sposti no non è una cosa che riesco a fare non lo sopporto sinceramente mi sta facendo un brutto effetto in questo occhio non so il perché mi viene da piangere no che non mi venisse anche prima ma comunque di solito li metto se devo fare un trucco veloce che devo uscire subito io metto un ombretto su tutta la palpebra tipo questo qui di Nabla sto utilizzando lo metto su tutta la palpebra per diciamo dare un effetto più particolare di un occhio visibilmente diciamo truccato ma proprio una cosa lieve lieve utilizzo questi qua perché oltre che sono abbastanza cremosi ma non da sporcare tutto tipo come sto facendo adesso perché ovviamente quando fai una cosa veloce ti devi per forza sporcare no mi piace questo colore perché è un colore veramente lo potete mettere sia di giorno che di sera sempre se uscite io nada 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 non mi piace assolutamente come vi sto dicendo poco fa vedo troppo confusione poi ho paura che le persone o si appoggiano oppure tu hai toccato qualcosa che ha toccato un'altra persona no non è una cosa che riuscirei a fare io ad esempio sono molto combattuta per perché mio figlio d'agosto fa il compleanno fa 18 anni e quindi sono molto combattuta se fagliano oppure no allora io faccio un effetto così semplicissimo poi di solito al di sopra metto un ombretto oddio l'ho perso tutto è qua metto di solito questo ombretto di essence che è questo qui cromato chrome e lo metto ovviamente su tutta la palpebra proprio per dare un effetto più luminoso essendo che ha quasi gli stessi colori mettendolo così al di sopra da l'effetto tipo un occhio wow truccato che poi wow niente niente così veloce e poi ovviamente andiamo di mascara io sto finendo questo qui di essence e quindi utilizzo questo come vedete ho le guanciotte ma non ho messo niente io basta che tocco il viso non metto non metto né correttore né niente perché l'ultima volta che l'ho messo mi sono spuntati i puntini neri perché essendo che c'è la mascherina e tutto perché poi ho combinato una cavolata e adesso vi dico allora siamo stati all'ikea perché dovevo comprare delle cose e quindi cosa è successo io avevo la mascherina siccome avevo la gola secca volevo una caramella ho preso le golia che avevo dentro la borsa se avete visto il video di what's my bag cosa c'entra la mia borsa sapete che avevo le caramelle e le golie dentro la borsa cosa ho fatto ho preso la caramella e l'ho mangiata avendo la mascherina avendo gli occhiali ho respirato la caramella quando è uscito il cuore che c'era quell'effetto mentolato e mi proprio mi bruciavano gli occhi una cosa pazzesca io stavo piangendo infatti si gira la mia amica mi fa ma perché stai piangendo e gli ho detto no è la caramella come la caramella si la caramella mi ha fatto proprio sciogliere tutto e siccome non riuscivo a respirare tutto veramente mi veniva di soffocare allora per quanto riguarda gli occhi abbiamo finito allora adesso ci vuole un bel una bella rinfrescata con l'odore di coco buonissima un bel ventaglio per dare una rinfrescata e per quanto mi riguarda il make up è finito poi mettiamo la mascherina ve lo farò vedere all'ultimo allora vi ho fatto vedere che ho messo un contorno occhi ho messo una crema idratante e un po' luminosa e anche una crema per quanto riguarda sempre il contorno occhi per dare un po' di luminosità non metto né correttore né fondotinta né cipria né niente perché l'ultima volta che sono uscita sinceramente avevo il correttore in qualche brufoletto non sotto gli occhi ma in qualche brufoletto e se generalmente poi mi sono spuntate dei puntini neri perché con la mascherina ovviamente soffocava il viso e sono spuntate dei puntini neri quindi assolutamente niente correttore niente di niente perché adesso lo vedrete con la mascherina è inutile vi faccio vedere ovviamente con la mascherina è inutile mettere un contorno occhi oppure per quanto mi riguarda giusto né blush né niente perché non si vedrebbe niente l'unica cosa è la fronte ma io avendo anche la frangetta con i capelli davanti quindi mi risulta inutile mi risulta inutile farvi vedere questa diciamo mettere prodotti che sinceramente non utilizzerei assolutamente allora cosa posso dirvi io sono già uscita siamo stati all'ikea siamo stati al centro sicilia da seforo perché dovevo cambiare il fondotinta e sinceramente è una cosa impossibile c'è quello che ti prende la temperatura non puoi toccare non puoi toccare niente perché da seforo non puoi toccare niente la ragazza mi doveva provare le cose ma lei non mi poteva toccare quindi lo dovevo fare io le luci erano sbagliate comunque cavolate varie viene pesantissimo uscire io poi ho visto una fila enorme da declaton c'era una fila ragazze che era indicibile veramente perché col caldo perché noi siamo usciti prestissimo perché volevamo fare presto nel senso che non volevamo proprio la confusione noi alle tre e mezza massimo eravamo all'ikea cioè oltre che le persone escono tranquillamente e tutto alcuni c'erano persone tipo con le mascherine con i guanti e tutto i guanti non si possono tenere assolutamente perché proprio no bollicine avevo le bollicine in tutte le dita cioè io perlomeno non uscirò perché se voglio acquistare una cosa l'acquisto online se devo fare una cosa ci vado vado a prenderla e torno a casa sinceramente è un po' pesante abbiamo fatto il mercato ed è pesante anche quello perché le persone o hanno i guanti oppure gli devi dare il detergente non è una cosa vivibile diciamo a 360 gradi l'unica cosa che io posso fare se esco è truccare gli occhi perché l'unica cosa che noterete sono gli occhi perché per quanto riguarda il viso ovviamente con la mascherina chi ce l'ha più piccola chi ce l'ha più grande ovviamente se dovete racchiudere diciamo il naso con la bocca ovviamente tutta questa parte sarà chiusa quindi non si vedrebbe quindi per me è inutile mettere fondotinta cipria blush terre cose è inutile sinceramente poi è meglio diciamo che in questo periodo specialmente anche nel periodo estivo facciamo respirare la pelle perché almeno prende un po' di colorito e fa sì che non spuntano brufoletti o altro perlomeno per quanto mi riguarda io non ci soffro tantissimo come vedete questa è la mia pelle soltanto con una crema e basta e io ci esco sinceramente ci esco normalmente l'unica cosa che mi dispiace che mi dispiace tantissimo è non mettere il burro cacao oppure un lip gloss perché quella è una cosa che io soffro tantissimo perché io ogni 5 secondi devo mettere il burro cacao perché ho sempre pellicine e tutto quindi avendo una pelle secca devo sempre 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 idratare quindi questa è la cosa che mi disturba di più però per quanto riguarda tutto il resto non ho problemi l'unica cosa che io soffro è caldo e con la mascherina sinceramente mi sento soffocare viene malissimo e quindi io preferisco sinceramente limitare le mie uscite bene questo è per quanto mi riguarda il video questa è la mia proposta ovviamente dopo di questo video andate subito a vedere tutte le altre ragazze cosa hanno cosa vi propongono ovviamente e io sono molto molto curiosa di sapere lizi le lizi cosa ci propone perché doveva esserci anche betty ma betty ci ha preceduto per quanto riguarda questo video e l'ha fatto anche prima però ve lo metterò giù nell'infobox perché ovviamente è l'altra makeup angels io vi chiedo scusa come vi ho chiesto scusa anche l'altra volta ma non mi è stato possibile fare il video per martedì io anche se era festivo lo potevamo fare il giorno prima perché ho avuto dei dei disguidi in famiglia e non l'abbiamo potuto fare appena una persona starà bene che è sicuro che starà bene ritornerò più forte di prima più più motivata per adesso mi vedrete un po' moscio un po' gne 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 perché ovviamente allora vi dico questa cosa però mio papà non è stato bene e quindi nei miei video mi avete visto che sono un po' abbattute e tutto perché ovviamente non è stato bene ma adesso si sta riprendendo piano piano si sta riprendendo appena lui starà bene sicuramente mi vedrete più euforica capitemi perché è mio papà ovviamente io ci tengo tantissimo alla mia famiglia io amo i miei genitori avete già visto il video per quanto riguarda questa cosa ve lo sto dicendo perché alcune persone mi hanno scritto che su instagram non ci sono più che il video è strano che noi non lo facciamo il martedì non è colpa delle due angels ma è perché ovviamente avendo una persona che è in ospedale capitemi che la voglia di fare video è un po' diminuita però mio papà sta benissimo però ovviamente deve fare altri due tre giorni in ospedale e poi può uscire sapete tutti che con il fatto del coronavirus le persone non si possono vedere quindi non vederlo sentirlo tramite telefono però non vederlo nel senso che ci puoi parlare che ci puoi dire determinate cose oppure dargli uno sguardo un bacio una carezza è una cosa bruttissima assolutamente bruttissima e non non lo auguro a nessuno e niente io spero che tra un paio di giorni mio papà esce quindi poi ve lo scriverò anche su instagram che sarò felice perché sarà a casa con noi con i suoi nipoti con i suoi figli con tutto con sua moglie ovviamente non ce la dimentichiamo la signora Lucia se no io vi ringrazio tantissimo perché ci sono alcune ragazze che mi sono state vicino ovviamente sapendo anche la situazione e altre persone che mi hanno anche chiesto il fatto che io non ci fossi diciamo che non fossi più presente sia su instagram che su youtube quindi io vi ringrazio tantissimo e ovviamente quando mio papà sarà a casa sarà meglio per me perché per adesso mi sento molto demoralizzata anche ripeto se lui non ha niente che sta bene e tutto però io chiudiamo qui perché sennò non mi basterà la mascherina per quanto riguarda questo video è tutto io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao